Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42 e Contemporary Art. In questo breve video un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 e Sir Tribune. Artista e docente. Insegna pittura all'Accademia di Brera di Milano. Molte mostre personali e collettive in luoghi eccellenti su scala internazionale, invitato ad eventi internazionali come la Biennale di Venezia, di Istanbul, Serpentai Gallery di Londra, di New York. Quindi realizza opere permanenti a Bergamo, a Bolzano in collaborazione con Museion, a Trivero per la Fondazione Zegna, a Cagliari per la sede Tiscali. L'opera a tutti i passi che è meravigliosa presso vari luoghi come Malpente. La sua arte crea un nuovo legame tra cittadini, territorio e impresa. Ecco, quale contributo offre alla società il tuo lavoro? La prima opera che ho fatto è stata un'opera realizzata da Peccioli, che è un piccolo paese vicino a Pisa, dove c'è un sindaco molto in gamba, a proposito appunto, abbastanza, perché Peccioli mi sembra che gestisca la pattumiera di Firenze, per dirlo un po' così. E quindi spesso lui mi ha fatto chiamare gli artisti che fa lei. Io credo che sia stato il primo. Nella mia testa non c'era l'idea di trovare uno spazio, una piazza, una strada dove la mia opera potesse essere ben visibile. No, nella mia testa davvero c'era un'idea precisa, che era quella di fare un'opera che potesse non essere contestata. con quelle premesse fondamentali, che sono proprio di ordine messo logico. Cioè immaginare, due pensionati su una panchita, si tenono la gomitata e dicono, guarda che roba dovevano fare i nostri soldi, no? E allora io questo non lo voglio, vorrei che la gente fosse contenta, no? Perché l'opera pubblica in quanto tale deve essere destinata soprattutto ai cittadini, no? I quali devono essere contenti. Anche lì il problema è quello, che poi per farci decidere contenti di ritoccare la loro sensibilità, però dall'altra parte deve essere molto abbia, far sì che l'opera abbia linguisticamente un profilo alto, altrimenti si cade in una forma di populismo demagogico, che sarebbe dunque contro la stessa opera. E quindi volevo sapere dai cittadini che cosa, quale è la loro storia, le loro... Volevo che l'opera... Volevo che conoscere un po', insomma, sapere la storia del territorio, conoscere le radici, e forse l'unico modo almeno, pensavo, ma poi ho verificato che ho fatto così, per far sì che l'opera potesse poi eventualmente radicarsi nel territorio. Ma insomma, fatto sta che dopo 4-5 mesi, dopo una delle riunioni che abbiamo fatto, è nato questo lavoro grazie al fatto che qualcuno ha detto sì, tra le cose che a noi piacciono, che ci interessano, che vorremmo, c'era un piccolo teatro qua dietro nel quale noi negli anni 30, quegli anziani pensionati, perché le riunioni le facevano con gli anziani, perché erano sempre al bar, e un piccolo teatro dove noi facevamo gli spettacoli, il sabato sera dove ci riunivamo, dove facevamo le feste, la ballo, e io ho detto loro vorrei ristrutturarlo e riportarlo come era in origine. Naturalmente non ci hanno creduto, perché questo viene da Milano, che ci viene. Strano. Arriva lui, no? C'è solo una traccia, un passaggio a questo c'è davvero, che è una iscrizione che c'è di fronte all'ingresso, al piccolo ingresso del teatro, che dice che quest'opera è una pietra di due metri e mezzo, quest'opera è dedicata ai ragazzi e ai ragazzi che in questo piccolo teatro si innamorarono. E fu così, perché i giorni di inaugurazione, ricordo che arrivai in ritardo come al solito, in questa piazza c'era il cinema con il nastro tricolore, il microfono. E allora c'erano due grandi vasi vicino, in fianco all'ingresso, vasi con due piante, con nastrini rosa, una cosa di un piccio insopportabile. Io veramente mi è venuto nervoso, incredibile. Allora sottovoce, prima di poterle parole, ho detto dal sindaco, ma perché avete messo questi vasi? E dice, non lo so, nessuno sapeva niente. E poi sono passati 40 secondi di silenzio e chi si è affacciato finalmente, il direttore dell'impresa ha detto, no, ma guarda che sono quegli anziani che ci sono là in fondo. Allora questa cosa antipatica si è trasformata è una cosa molto bella, ha dato senso al lavoro. La didascalia che io ho fatto è stata importantissima perché è un dispositivo attivatore dell'opera, anche politico, nei confronti di alcune modalità con cui si fanno le opere d'arte. Perciò la considero veramente un'opera manifesto nel mio lavoro. Cioè da lì in poi tutti i miei pubblichi hanno seguito metodologicamente questo approccio. Grazie per aver ricordato quest'opera che è meravigliosa. Adelaide Corbetta. È facilissimo parlare dopo Garuppi, è facilissimo. È difficile. Allora Adelaide Corbetta, tre committenti, Fabriano, gruppo Fedrigoni, Chiostro di Bramante, l'Accademia Casa Ricordi, Olivero Toscani Studio, la comunicazione, che prima si chiamava pubblicità, mi ricordo una volta, ha acquistato nel tempo un'aura sempre più negativa, no? Come strumento di vendita di bisogni fittizi e ridondanti. C'era un direttore generale della RAI che in una intervista disse sì, ormai i programmi, quelli diciamo spazzatura, sono fatti per vendere utenti alla pubblicità. Invece i tuoi clienti sono, vedo, sono tutte aziende che vendono e contributo, offre alla società il tuo lavoro. Allora, doverosa premessa, io sono convinta che buona parte dei prodotti siano prodotti sani. Non credo affatto che i prodotti culturali perché fanno parte di questo mondo siano di per sé sani. Conosco dei prodotti culturali assolutamente insani che preferiscono promuovere, Io prima parlavo della Chiesa Cattolica. Non c'è stato il miglior comunicatore al mondo, a me non viene in mente, cioè con una capacità di tenuta così, quindi sopraffatta dall'incapacità attuale della Chiesa Cattolica di comunicare considerando che loro ci hanno insegnato tutto, ci hanno insegnato i caratteri tipografici, cioè dai caratteri tipografici alla propaganda non abbiamo avuto degli altri maestri, al come essere committente e di conseguenza anche come non esserlo, cioè il mio non vuole essere una apologia della metodologia cattolica. Il contributo che dovrebbe svolgere il mio mestiere è certamente quello dell'informazione di qualità, perché invece molto spesso non si fa. non voglio addentrarmi nel campo delle fake news. C'è una prima parte di studio e poi una seconda parte di declinazione, di declinazione di tutto, di declinazione di linguaggio, di scelta lessicale ma anche semantica, perché quando racconti di un museo è molto diverso di quando racconti di un quaderno fabriano per dire un altro dei prodotti di cui noi raccontiamo. di certo devi conoscere un museo come devi conoscere la composizione della carta. La conoscenza non è imprescindibile. Certo, certo, certo. No, perché al di là è ritorno di questa cosa della chiesa che è stata un'idà che è una grande come la mia gente diceva. Ma poi anche, sembra che accennarsi proprio a me è importantissimo, il fatto che la chiesa è stata il più grande come che è in canale c'era. ci sono stati printi per i signori papi perché i papi sono tra le grandi comunità. E' ancora formidabile che hanno come dire condizionato condizionato la qualità dell'arte. Hanno creato dei condizionamenti agli artisti, hanno creato dei limiti. E' allora interessantissimo il fatto che ho preso che il limite sia la grande benzina necessaria all'arte. Cioè quando gli artisti dicono io faccio quello che voglio che sono un'artista, sono un'uomo lì, manco per niente. Ci sono dei limiti interessantissimi che sono, che producono quelle difficoltà e gli artisti bravi nella storia dell'arte ce l'hanno dimostrato. Sono riusciti a risolvere dei problemi di relazione con lo spazio architettonico. La narrazione evangelica è quella lì. Cioè no, ma io ho fatto, no, tu fai così. No. No, io sono Michelangelo, posso fare quello che voglio, quindi nel cappella settina voglio fare l'anno. Ma tu la fai qui se no, chiama Raffaello. Cioè, hai capito? Allora lì è una sfida straordinaria. In Contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il Contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi piatorevoli interpreti.